. GF VIP 2, Luca Onestini sempre più vicino a Ivana Marazzova, io ti ho capita. VINZUIDEN. Si è creato un forte feeling tra i concorrenti del grande fratello VIP 2, sempre più uniti e complici in questi ultimi scorci di avventura nel seguitissimo reality di Canale 5. . A pochi giorni dalla finale, l'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, sta realizzando che dentro di sé quello che lo lega alla bellissima Ivana Marazzova non è un semplice rapporto di amicizia, ma un vero e proprio interesse. . . Proprio stamattina vi abbiamo raccontato, infatti, in questo articolo delle parole di conforto usate da Luca per rassicurare la modella cieca dalle paranoie venutele a seguito di alcune battutine di Ignazio Moser sui suoi presunti chili di troppo. . L'onestini non si è trattenuto dal ribadire a Ivana quanto, peso o non peso, sia assolutamente attraente e, anzi, a parer suo starebbe decisamente meglio adesso, piuttosto che a inizio esperienza, quando era più secca. . . Ma l'ex fidanzato di Soleil Sorge si è confidato anche con alcuni suoi compagni d'avventura in merito a quello che sta accadendo dentro di lui, a inizio articolo trovate il video in questione, e, proprio a Lorenzo Flaherty e Raffaello Tonon ha rivelato il particolare interesse che sta nascendo nei confronti della modella cieca. . Luca ha, altre sì, ammesso che se solo Ivana fosse stata single, in qualche modo avrebbe provato ad avvicinarsi a lei, ma la presenza nella sua vita di Alessandro, il fidanzato di cui ha ripetutamente parlato nella casa, è per lui un freno non da poco, motivo per il quale ha deciso di lasciare che il loro rapporto rimanga una semplice e pura amicizia. . . Inoltre, nel video a seguire, trovate delle parole decisamente dolci dell'onestini, che si complimenta con la marazzova, oltre a essere bella che lo vedono tutti la cosa più bella che hai è il tuo essere pulita, e io da uomo non sai quanto lo apprezzi. . Clicca sull'immagine per vedere il video. Che ne pensate di questa ipotetica coppia? A voi piacerebbero Luca e Ivana insieme. . . . .